Come l'ho detto, smoothie of the smoothie E' un po' E' un po' più strano rispetto agli altri Ah ma c'è la fregatura allora In questi slime Yolanda Sweet Hello everyone Rieccomi tornata con un nuovo video Come state? Spero tutto bene Come avete passato questa vostra giornata Spero bene Allora ragazzi sono tornata con un nuovo video Di apertura slime Quindi oggi andiamo ad aprire Nuovi slime che mi sono arrivati Dall'America e sono nuovi slime Esclusivi della Nickelodeon Esatto esatto L'applausometro Prima di iniziare questo video dove andiamo ad aprire questi slime Strani food Un bel pollice in su iscrivetevi ed attivate la campanella Per ricevere tutte quante le mie notifiche Mi raccomando 2500 like Per un nuovo video di apertura slime E ovviamente se non riuscite ad attivare la campanella Mettete sempre la sveglia sul vostro telefono Così vi ricordate che alle due e mezza del pomeriggio ci sono i miei video Ma prima ancora Facciamo un bel gioco Allora il gioco di oggi è Indovinate da cosa parto Allora qua abbiamo due pacchi differenti Perché sembrano simili ma in realtà non lo sono Due pacchi diversi Oh mio dio ma Oh mio dio ho visto qualcosa che è bellissimo Due pacchi diversi di slime Questi sono dei cupcakes Penso si intuisca Dal video Questi invece sono delle bibite Dei smoothie Ora smoothie Come l'ho detto Smoothie o smoothie Ora secondo voi da quale parto? Dai cupcakes? O dalle bibite? Quindi dagli smoothie? Scrivetelo adesso giù nei commenti 3 2 1 Avete scritto? Vi do un po' di tempo Vediamo L'avete scritto? Bene Dopo il jingle Io vi dico che parto da Dai cupcakes Dai cupcakes Io parto Avevate indovinato ragazzi Ok vediamo un pochettino Vado a prendere Il mio affidato Tagliarino E vediamo un pochettino Andiamo ad aprire questi Slime Madonna Questo è scritto che profumano di cupcakes Ragazzi ma come è fatto bene Guardate Ognuno nel suo posto Allora qua abbiamo Il cupcakes azzurro Bianco e rosa E io ovviamente Da cosa posso partire Secondo voi Ma Dallo slime Rosa Ovviamente Basta Basta Rosa 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 Allora Partiamo dallo slime Rosa Ah che si svita No si svita ragazzi Cioè ma di cosa stiamo parlando Wow che suon ASMR Allora Affidato taglierino Tagliamo tutto quantino E vediamo un pochettino Fa anche rima Alziamoci le maniche Avete visto il mio maione Invece natalizio Ogni giorno Un maione diverso Allora Vediamo Ma di cosa stiamo parlando Ma di cosa Stiamo parlando Allora Dovrebbe profumare Di cupcakes Ma in realtà Profuma di borotalco Perché profuma di borotalco Ragazzi C'è qualcosa che non va C'è scritto Scented cupcakes Ma in realtà Profuma di borotalco Allora Chi non sa se gli slime Sono tutti quanti Bianchi O sono tutti quanti Dello stesso colore In realtà No No Non sono tutti quanti Dello stesso colore Ma dopo lo andiamo Ah no Ogni coperchio Ha il suo colore Era intuibile Allora dentro Ci sono delle palline In realtà Non sono palline Di polistirolo Ma sono palline Molto Solide Quindi sono molto Molto belle Wow No Vabbè raghi Ma di cosa Stiamo parlando Sentiamo Ok Come vi ho anticipato Prima Il profumo Sembra borotalco Non lo so Questa è la mia percezione Che sappia di borotalco Però è super glossy Super elastico Super morbido Ed è super 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 Scoppiettante Le palline dentro Fortunatamente Non scappano via Guardate quanto è elastico Che bolle Vabbè Vendite l'SMR Bellissimo 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 Apriamo Ed è rosa Vediamo se È come l'altro Che è bello morbido Morbido Perché ovviamente Ogni colore Potrebbe variare Sembra addirittura Migliore Ragazzi Sembra addirittura Molto più Morbido Oh Wow Raga È bellissimo Sono scioccata Da questa cosa Ragazzi Allora È stupendo È molto morbido Molto più morbido Intendo dire Rispetto al bianco Ovviamente È la stessa qualità Lo stesso slime Le stesse palline Lo stesso profumo Però La consistenza Ragazzi Sembra 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 Sentite Sono fatte Le bollicine Sembra Diversa Adoro Ok Vediamo questo Blu Com'è Anche questo Qua è molto Glossy Credevo Dentro ci fossero Tipo gli sprinkles In realtà Ci sono solo Le palline Vediamo Com'è Tutte le palline Sotto Allora Allora Questo È un po' Oddio Un po' Più strano Rispetto agli altri Allora Lo slime È morbido Raga Io devo dire Che gli slime Più belli Che abbia mai Comprato Da Amazon Sono sempre Quelli della Nickelodeon E anche Quella della Play Doh Devo dire Molto Molto belli Mi sorprendono Ogni volta Che li apro Comunque stessa consistenza Forse quello rosa L'ho trovato Molto più bello Questo azzurro Sembra Un azzurro Un po' Spento Un po' Sporchino Dalla videocamera Non ci sembra Però Fidatevi di me Vediamo Da dove partire Boh Ah È gigante Ma guardate Sotto il buco Ah Ma c'è la fregatura Allora In questi slime Ecco Perché Sembrano giganti Ma in realtà Sotto hanno Un buco Di un metro Che Alla fine Lo slime È pochissimo Vabbè pochissimo Però C'è la fregatura Aiuto Allora Ci sono le palline Sono due Che perdono palline Allora Poi abbiamo Un po' Un litino Poi vediamo Ma si apre Se la Se la confezione È come l'altro Cioè Se la tipologia di slime È come l'altro Allora Sarà molto bello Sì Mamma mia ragazzi Sce Guardate qua Che bello Oddio Che meraviglia Mamma mia Ma che cos'è Questa roba Stupenda Ok È bellissimo Che bello Dovrebbe profumare Non so profuma Sweet scent Dovrebbe profumare Di dolce Ma in realtà Io sento sempre L'odore del borotalco Ragazzi Vabbè Yolanda L'odore del borotalco Ok Allora Allora Lo slime È bellissimo Cioè C'ha quel tono Trasparente È un po' gommoso Però allo stesso tempo È molto Elastico È super Iper Mega Elastico Che bolle Wow Sentiamo Allora Mettiamo le palline Nello slime Bianche Poco alla volta Perché altrimenti Volano tutte Quanto diventa La crunchy Da 1 a 10 Ragazzi Questo slime Mio Dio Ragazzi Ragazzi È super Crazy Oddio È bellissimo Guardate Però Vi devo dire una cosa Ora ho messo Tutte e due Le bustine di palline E vi dico Che la consistenza Ha cambiato un botto Si è lievemente Indurito Quindi Mi sa Che negli altri Due le bustine Di palline Non le metto Uguale Uguale Ragazzi Sa di borotalco Basta Punto Cioè Questi slime Sono borotalco Guardate qua No vabbè Devo dire che Bello Sembra che Come se Avessero mischiato Con la trasparente E con la vinilica Insieme E Avessero Fatto Questi slime Bello Mamma mia Questo viola Che bello Ok Così Devo dire Che sono Molto 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 Meglio Sono veramente Bellissimi Anche se Sono un po' Gigli Gommosi Ok Però la consistenza È stupenda Cioè Quello rosa Era molto più Trasparente E il mio voto È Stra 10 La nickelodeon Non si smentisce mai E niente Vi volevo dire Che magari In un prossimo video Potrei farvi vedere La mia collezione Di slime Che sono praticamente Più di 300 400 slime Non lo so Ve lo ricordate Quello scatolone gigante Tutti slime Bene Se volete La mia collezione Fatemelo sapere Giù nei commenti Poi magari Potrei fare Uno smoothie Slime Super gigante Grazie mille A tutti Vi voglio tanto bene Vi mando Un bacione Fortissimo Un abbraccio A tutti voi Come sempre Ci vediamo Domani All'ore 14 30 Con un nuovo Video Bye